Bella a tutti i Fortnite Arts, benvenuti sui Lontube, eccoci in questo video per andare a fare gli incarichi della settimana numero 5, iniziamo con questo, usa una zipline, una sbarra da grinding e un rampicante da grinding allora il rampicante da grinding lo troviamo qui diciamo nel bioma della giungla uno eccolo qua, l'abbiamo già visto, ce ne sono mi sembra un paio e uno è qua che ci porta alla neve, adesso non lo vedo ma prima l'ho visto, eccolo qua uno e poi ce n'è anche un altro però noi, che è là giù, lo vedete un altro di là, poi potrebbe essere sempre questo questo lo andiamo subito a utilizzare ok, perché così andiamo ora dobbiamo usare una barra da grinding che sappiamo essere questa potrebbe essere considerata come zipline ma adesso andiamo invece a vedere se c'è bisogno di una zipline le zipline le troviamo un po' in giro mentre le barre da grinding le andiamo a mega city ad utilizzarle anche se voglio provare a usare anche questa questa però è sicuramente considerata zipline ok, siamo sempre a due dobbiamo dirigerci da questa parte lasciami stare che lo so io oh, siete in due, perfetto dentro di voi io sto scappando lasciatemi come danno la caccia a me siete in due, datevi battaglia io sto fuggendo perfetto, vediamo di qua se c'è l'altro ok, comunque vi ho fatto vedere la posizione di questi due l'elevatore qui nella giungla c'è l'elevatore, la zipline un'altra zipline non c'è per lo meno non sono riuscito a trovarla potrebbe anche esserci e adesso ci dirigiamo a mega city dove troviamo di sicuro la barra da grinding quindi ora tagliamo tagliamo un po' il video ok, qui niente, errore ecco qua che abbiamo trovato una zipline qui andiamo a vedere bene nella mappa dove siamo siamo qua giù eccoci, eccoci qui in questo punto vediamo se la zipline ci viene contata ok, no, perfetto quindi l'altra, la zipline che ci veniva contata era anche l'elevatore viene contato come zipline e quindi dobbiamo andare a mega city a usare le barre da grinding così almeno ci siamo tolti ogni dubbio anche sull'elevatore adesso ce ne andiamo tutti belli tranquilli ad usare la barra da crítiche eccola qua e andiamo proprio qua sopra eccolo qua e la missione è completata se il video vi è piaciuto vi è tenuto compagnia vi è stato un po' d'aiuto mi raccomando ragazzi un bel mi piace ci fa molto piacere per l'appunto se vi va potete condividere il video con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento anche se volete essere salutati nei nostri video scrivetecelo lì nei commenti e se ancora non l'avete fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti